bentornati su finger social oggi ci sarà india croazia ragazzi india croazia allora voi direte perché india croazia non l'abbiamo mai sentita questa croazia e infatti non l'avete mai sentita sono andato ad avanti senza video e siamo arrivati in serie di serie eccellenza non si gioca benissimo con i gesti ovviamente però non è che pareggia di un gesto muovi il cionistino verso la mente ma anche nel 0 a 0 mamma mia pessimo 9 ancora l'india mamma mia l'india 0 a 0 molto interessante però 0 a 0 a parigi ricordiamoci che l'india è a quota 30 punti in eccellenza mentre la croazia è solamente terza con 22 punti prossima partita francia new zealandia francia allora non so la francia francia contro la new zealandia settima la new zealandia e sesta la francia con gli stessi punti è semplici sopra vediamo 1 kg 2 la new zealandia attacca rispetto alla croazia attenzione qua sul rischio con la scipienza alla francia qualcuno in possesso all'alento negativo la francia la francia i francesi mantengono il nostro stato edizioni francia la francia tra i due voi la francia i GONILLO! In vantaggio in Francia, per metterci la vittoria su una vittoria contro la nuova zona Futtore schiacciante Ok ragazzi, che dire? Grazie a tutti per la visione, 3 minuti, 2 partite rapide, diciamo Ciao